Spaghetti al pomodoro. La BC. Andiamo. Tutto ciò che serve è, due pentole, oppure una pentola e una padella, uno scolapasta e, spaghetti, olio d'oliva, passata di pomodoro, sale, aglio, parmigiano grattugiato ed eventualmente basilico. Metti una pentola o una padella sul fuoco medio basso. Aggiungi un po' di olio d'oliva e uno spicchio d'aglio. Due spicchi se sei solo. Tieni presente che esistono diverse religioni dell'aglio. Schiacciato con buccia, schiacciato senza buccia, non schiacciato senza buccia e senza buccia e senza germe. Torniamo alla padella, ora aggiungete questa splendida salsa di pomodoro. Pulisci la bottiglia con un po' d'acqua e mettila nella pentola o nella padella, sì. Ora ascolta attentamente. Puoi cuocere la passata 10 minuti o fino a un'ora. Andranno bene entrambi. Ma Jackie pensa che più si avvicina la mezz'ora meglio diventa. Porta a bollore l'acqua salata. Togli l'aglio o mangialo, a tua scelta. Salsa pronta. Saltare gli spaghetti al dente in padella e mantecare a fuoco basso finché il tutto sarà ben amalgamato. E il tocco finale, il parmigiano. Prosperità. In conclusione una buona porzione, con buoni ingredienti, vi costerà circa 2 dollari, 3 sterline o 2,50 euro. Goditela, gatto umano! Grazie per la visione!